È pesante il bilancio dell'attività di monitoraggio della circolazione stradale finalizzata alla prevenzione degli incidenti, condotta da inizio anno dai carabinieri della Compagnia di Tirano guidati dal capitano Luca Emilio Mechilli. 19 i conducenti denunciati e 4 quelli segnalati alla Prefettura per guida in stato di ebrezza, per un totale di 23 patenti ritirate e sospese. Dei primi, 4 sono stati denunciati nel fine settimana appena trascorso da parte dei militari delle stazioni di Grossotto, di Livigno e del nucleo operativo radiomobile di Tirano. I contravventori sono per lo più uomini, una sola e donna di età compresa fra i 18 e i 62 anni, residenti in Valtellina ma anche nelle province di Milano, Lecco, Varese, Como e Brescia, italiani e stranieri. Il tasso più elevato accertato attraverso il test dell'etilometro è stato di 2,43 grammi litro di un cittadino polacco, mentre a un neopatentato appena 18enne è stato riscontrato un valore pari a 2,20 grammi litro alla prima prova e 2,11 alla seconda, tenuto presente che quando il tasso riscontrato supera il valore di 1,5 scatta l'ammenda, compresa fra i 1.500 e i 6.000 euro, l'arresto da sei mesi a un anno, la sospensione della patente di guida da uno a due anni e se il veicolo appartiene al contravventore, anche il sequestro della vettura ai fini della confisca.